Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio fare un video, che a dire la verità era già un po' di tempo che volevo fare, ma non l'avevo ancora trovato nel tempo o nel modo. Mi piacerebbe fare una mia personale top 5, non tanto dei giochi usciti negli ultimi anni 2019-2018, che poi sicuramente farò anche quella, però di tutti i giochi che ho ricevuto e che comunque ho qui in casa nel suo palco, quindi nella collezione mia e di mia moglie. Mi piacerebbe fare una top 5 personale di quelli che in assoluto ho apprezzato di più, partendo dal quinto e arrivando al primo, ovviamente senza citare mostri sacri come Space Quest, Star Quest o anche Hero Quest. Quelli saranno una cosa a parte, tanto sarebbe scontato dirvi che Hero Quest è il gioco principale al primo posto della mia vita. Quindi per ora farò una top 5 dei giochi, diciamo, usciti negli ultimi 10 anni. Ecco, più o meno 8-10 anni è una cosa del genere. Nel caso vediate un cambio di qualità in questo video, anche perché è la prima volta che stiamo provando, ho un Honor 9, non è che ho chissà cosa per riprendere, si fa con quello che ci sa, però stiamo provando a riprendere in 4K e bisogna, occhio, ancora vedere se poi una volta caricato su YouTube, YouTube te lo riconosce, perché a regola YouTube dovrebbe riconoscerlo in 4K. Però a me è già ricapitato un'altra volta in passato di caricare un video in 4K e poi non si sa perché non l'ha messo in 720p, tra l'altro si vedeva anche un po' sgranate tutto. Vabbè, ci sta che sia stato un problema sia in fase di rendering che dopo, quindi fatemi sapere cosa ne pensate e nel caso, insomma, ci vediate particolarmente differenze, ecco, nella qualità video. E come vi dicevo, voglio fare questa top 5, dicendovi ovviamente il perché, ovviamente motivandovi, e si parte dal quinto e arrivando al primo. Quindi vi faccio vedere il mio quinto gioco preferito di questa top 5, qual è? Al quinto posto, Il Signore degli Anelli, Viaggi nella terra di mezzo della Fantasy Flight Games e portato in Italia da Asmode, che ovviamente colgo ancora una volta l'occasione per ringraziarli. Gioco seguito da un app, quindi nel classico stile delle case della follia, sempre della Fantasy Flight, e in altri giochi che poi dopo sono stati appunto tramutati da una prima versione, laddove si giocava prettamente senza app, a una seconda edizione con l'app, perché la Fantasy Flight sta cercando di andare avanti nei giochi particolarmente interattivi e dalla forte componente, a parte tematica, narrativa. E la cosa che mi è piaciuta da morire è che io in passato avevo provato altri board game, magari vecchi come il cucco, lo ammetto, del Signore degli Anelli e sinceramente non mi ero mai divertito. Anche e soprattutto perché, ve lo dissi nel video, che se poi l'andate a ricercare lo trovate, questo Viaggi nella terra di mezzo mi è piaciuto da morire perché per una volta, sì, l'avete visto, ci sono Aragorn, ci sono Legolas, personaggi ovviamente principali dell'ambientazione di Tolkien, però non c'è la guerra dell'anello. Cioè, capito? Tutte le volte che si fa o un gioco di ruolo tipo il Girsa o un gioco da tavolo siamo sempre la compagnia dell'anello che deve andare al Monte Fatto e ributtarci dentro l'unico anello. Qui no. Queste sono proprio avventure nella terra di mezzo, ovviamente. Poi c'è un crescendo, si arriverà anche a combattere creature belle, grosse, e mitologiche, quasi come Nazgul, però è un gioco di avventura che ci fa vivere la terra di mezzo tutto completamente sotto un'altra luce. E mi è piaciuto da morire perché anche il sistema di carte, al posto di tirare i dadi, a me piace tirare i dadi, eh, se mi togliete i dadi già perdo un po' di voglia. Però se mi dai un modo alternativo alla giocata, a levarmi appunto la casualità del tiro di dado, è bellino, perché qui praticamente le azioni erano giocando le carte, e non, quindi c'avevi un mazzo in mano, con le carte che usavi per prevalere e vincere sulla battaglia. E mi è piaciuto molto come sistema, anche il fatto dei tile componibili, delle mappe di gioco componibili, sia all'esterno che al chiuso, e poi stanno per uscire anche sempre tramite l'Asbo d'Italia, tantissime espansioni. E quindi al quinto posto questo, perché veramente mi ha fatto vivere, per la prima volta nella vita, la terra di mezzo, per come l'avrei sempre voluta vivere, fregandomene completamente della guerra a Mordor, a Sauron, a Nazgul e all'unico anello. Quindi al quinto posto, assolutamente, viaggi nella terra di mezzo. Al quarto posto, un dungeon crawler che vedete qui davanti, ora poi ve li descrivo tutti e due, ma l'avete già visto in un vecchio video, dungeon saga della Mantic, portato e tradotto e localizzato appunto in italiano, dalla MS Edizioni. Questo è un dungeon crawler che mi è piaciuto da morire, qui davanti vedete il gioco base, il compendio dell'avventuriero. Perché ve li faccio vedere insieme? A parte perché l'ho comprato con mia moglie, siamo fatti un regalino, e il ragazzo bravissimo, tra l'altro che ce l'ha venduto, ha tenuto bene, ce l'ha venduto insieme a un buonissimo prezzo. Però perché ve li faccio vedere insieme? Perché secondo me queste due scatole, questo è il gioco di base, lo comprate e giocate per mesi. Questo, ragazzi, che è raro, abbastanza introvabile, e di solito chi lo vende usato soltanto questo alza un po' il prezzo, però prendetelo assolutamente insieme a questo, perché il compendio dell'avventuriero inserisce carte, non c'è nemmeno la miniatura, un tile, non c'è niente, ci sono solo carte, però c'è un manuale di 60 pagine che ve lo trasforma in un gioco di ruolo. Ora, io che sono fanatico di HeroQuest, ormai lo sanno, penso, anche le rocce, sassi, per strada, io veramente ho sempre cercato, e ne ho trovati tanti, The Ascent, Sword and Sorcery, bellissimi, però il gioco che più di tutti si è avvicinato alla semplicità di HeroQuest, ma anche alla sua, alla fin fine, al suo lato sandbox, cioè di la facilità anche con cui si creano avventure, nuove settaggi e quant'altro, ce l'ho ritrovato tutto, in un sistema velocissimo, pieno zeppo di elementi scenici, compendio dell'avventuriero che ve lo, ci potete mettere orchi, ci potete mettere minotauri, ci potete mettere creature, draghi, qualsiasi cosa, orso gufo, di tutto quello che vi passa a mente. Trovate in casa una vecchia pedina dell'85 di un goblin brutto di Warhammer, ce lo potete mettere, ci sono le regole per usarlo, delle cose disumane, e secondo me è il setting giusto per unire gioco da tavolo e gioco di ruolo. Quindi, per tutti gli amanti dei dungeon crawler, secondo me, ma ripeto, parere mio personale, sempre un cosa ne penso alla fin fine, questo è veramente, per tutti i fanatici di HeroQuest, questo è in assoluto forse il più bello di tutti. Poi, ovviamente, cioè, vedete, abbiamo una parte della libreria dedicata solo a quello, Zombicide, nella versione invader futuristica, perché sono malato di Alien, Dead Space e giochi spaziali, dell'Akmon, e portata anche questa in Italia da Asmode, e tradotto e localizzato ovviamente nella nostra lingua, e questo ci piace da morire, ma tutti gli Zombicide, non prendete soltanto questo. Ho citato per me quello più bello, ma al posto di questo avrei potuto prendere tranquillamente anche Green Lord, o quelli ambientati ai tempi nostri. Cigar vanda a morire perché è un gioco cooperativo pensato per essere cooperativo, quindi non è un Nemesis dove magari c'è la possibilità di tradire il compagno, o cose del genere, per quanto anche Nemesis poi c'è una modalità cooperativa che è stata fatta come uno Stretch Goals. Però, secondo me è bello perché qui per me l'Akmon ha dato il massimo, infatti non a caso stanno rifacendo la seconda edizione, ristampando tutti i tile, miniature e quant'altro. La bellezza della saga di Zombicide è che è un gioco veloce, per tutti gli amanti di giochi pieni in zeppi di miniature e trilioni, si parla in ogni scatola, ci saranno almeno dalle 60 alle 80 pedine a scatola. Quindi immaginatevi di aprirle tutte e di metterle in campo. E poi il bello, ora, a parte Invader, non si potrebbe tanto vederci un lupo mannaro su un pianeta tipo Marte, una cosa del genere, però soprattutto li potete usare tutti insieme, o vedere uno con dei fucili nel Medioevo, però se volete prendere tutte quante le miniature di una saga, ad esempio medievale, noi nel caso abbiamo Black Plug, Wolfburg e Green Lord, e volete giocare a Black Plug, li potete mettere tutti insieme, magari ci inizia a buttare orchi, draghi, fantasmi, qualsiasi altra cosa. Quindi è bello da morire perché è bello, sia come Dungeon Crawler che gioco cooperativo, e c'ha una vagonata veramente di miniature da mettere in campo, è bello vedere sto tavolo da battaglia pieno, sepo di miniature che escono dalle fottute pareti, e poi tirare un milione di dadi, perché i giochi dove si tirano dadi c'è tanto la componente fortuna, la componente culo, cosiddetta, però a noi ci piacciono, e siamo veramente fanatici. Toglieteci tutto, a me e mia moglie, ma non ci togliete assolutamente Zombicide, che per noi è uno dei giochi qualità-prezzo bellissima, e poi magari uno dice, sì, ci hanno un costo leggermente alto a volte, che magari quando esce costa anche a volte 100 euro soltanto il gioco. Ragazzi, se dividete soltanto la spesa per il numero di miniature che ci sono dentro, cioè scoprirete che avete pagato un euro e mezzo, due euro a miniatura, quindi già vi ripagate soltanto col peso della scatola e quello che c'è dentro. Quindi Zombicide, in particolare modo, ma Invader, perché è quello che ci piace più di tutti, al nostro terzo posto. Al secondo posto, Battle Stations, seconda edizione della Gorilla Games, e ringrazio ancora una volta Jeff Sayadek, che vedete davanti, che è l'autore, insieme a suo fratello, di questo gioco, nella fattispecie della seconda edizione. Questa scatola dal peso di... ma io penso saranno almeno 5 kg tranquillamente, poi vedete mostruosamente grande e piena zeppa di contenuti, io lo adoro e ve lo giuro, morissimi, ci devo portare un casino di gameplay sul canale, perché questo l'ho scoperto per caso, l'ho scoperto passando da un Kickstarter, dove la prima edizione, infatti perché hanno fatto la seconda, dove la prima, la gente ci rimase particolarmente delusa, e dobbiamo andare a Cesare quel che è di Cesare, perché arrivarono i tile stampati su un cartoncino, veramente facevi così, si rompeva, senza farlo a sbaglio, quindi proprio resistenza a zero, e addirittura il layout e i disegni sulle carte non erano tanto belli, e le schede dei personaggi, degli eroi, delle razze aliene che possiamo utilizzare, erano stampate su carta, e non scherzo, erano davvero stampate su carta, e la gente ci rimase male, dopo aver fatto il primo Kickstarter. Nella seconda invece, materiale da paura, anche qui ci hanno mandato un manuale disumanamente grande, che è un po' come il compendio dell'avventuriero di Dungeon Saga, l'idea è sempre la stessa, che lo trasforma in un vero e proprio GDR, e perché ci è piaciuto? In questo gioco, ho trovato, ora l'ambientazione non mi fa impazzire, sono sincero, perché ci sono troppe razze, razze aliene, dalle fattezze di animali, cioè alla fin fine mi sembrano vecchi giochi, anni 80-90 del computer, no? del 486, vedere un alieno con la testa d'elefante e un fucile laser non mi fa impazzire, comunque, a parte l'ambientazione, che poi uno volendo le razze se le crea anche da solo, questo gioco è bello, perché si muove su tre dimensioni, praticamente su tre spessori, infatti spesso e volentieri, dovrete creare tre tavoli da gioco, e infatti richiede tanto posto, come vi faccio vedere nel video, perché il vostro equipaggio si muove a bordo della vostra nave, che è una mappa, nella seconda mappa è la vostra nave che si muove nello spazio, e magari, che ne sapete, in quella missione dovete abbordare una stazione orbitale, e fare scendere parte dell'equipaggio, magari dei bot, dei robot da combattimento, per andare a fare un piano di hacking, quindi, si divide in tre, perché avrete un gruppo, che è sceso sulla stazione orbitale, un gruppo che deve pilotare la nave rimasta a bordo, e un altro gruppo che si muove nello spazio, cioè, un altro gruppo, scusate, e la vostra nave che si muove nello spazio, sta ferma, magari potrebbe essere attaccata, magari, nella base venite attaccati da dei nemici, venite abbordati, nel frattempo c'è un incrociatore da battaglia che vi spara, cioè, avete tre tavoli divisi, ma, è di una complessità, a livello di cose che potete fare, logistica e disumana, qui veramente spazio alla fantasia, ed è di una facilità, nei contenuti e nelle regole, veramente disarmante, cioè, il regolamento del gioco, potrebbero scriverlo come Iro, questo, cioè, come vecchi giochi di un tempo, sulla scatola, direttamente, e sarebbe stato uguale, o come anche Brivido, ed è un gioco di un'immersione, di uno spessore disumano, qui vi ci potete sbizzarri a creare cosa vi pare, e anche qui, come Dungeon Saga, infatti l'idea è molto simile, ci potete mettere quello che volete, perché potete creare una storia, perché anche in questo gioco c'è il Dungeon Master, potete creare una storia in cui arrivate su un pianeta, e in quel pianeta magari, sono una specie di medioevo, tra 300.000 virgolette, quindi magari ci mettete i torchetti, i goblin, ci mettete la magia, i maghi, cioè potete fare cosa volete, ed è bello, perché questo gioco si muove in tre, di solito due, comunque anche tre dimensioni, nel caso splittiate il gruppo, per farlo sbarcare da qualche altra parte, ed è di una semplicità bellissima, ma più che altro è evocativo da morire, e veramente, veramente vi fa sentire l'equipaggio di una nave spaziale, è qualcosa di spettacolare, e sogno di crearci un'avventura tipo Alien o Dead Space, prima o poi la farò, secondo posto assolutamente per Battle Stations. E per concludere, chi mi segue da un anno e mezzo, da quando ho cambiato tema al canale, sa benissimo, perché l'ho detto praticamente in 100.000 video, che il mio gioco da tavolo preferito in assoluto è HeroQuest, però non prendendo giochi di quel tempo lì, di quell'anno lì, dell'89, il mio preferito è in assoluto Deep Madness, però Deep Madness, io ho sempre precisato che non è il mio preferito, a livello di regole, anche perché il regolamento, boh, sono cose che ho già rivisto, e nemmeno tanto il mio preferito, a livello anche di immersione, o anche di tattiche, di carte, quello che puoi fare alla fin fine, no? Di logistiche, di tattiche, di battaglia, organizzazioni di gruppo, perché ricordo di essere un gioco completamente cooperativo, è l'ambientazione, che a me veramente mi ha ucciso, perché io sono fanatico di Lovecraft, già da quando, dall'età di 14 anni, mi lesse tutti quanti i suoi romanzi, più mi comprei Necronomicon, che la gente mi vedeva in giro, o magliettina di Burzum, o magari di Marilyn Manson, che leggevo Necronomicon, ero il satanista del paese, tanto si sa come ragiona la gente, e quindi, queste cose, questo tema, mi sono sempre rimaste nel cuore, però, sono anche fanatico, dello spazio, dei giochi spaziali, e allo stesso tempo, delle ambientazioni sott'acqua, ambientate nelle profondità dell'oceano, o comunque dei mari, sulla terra, o comunque anche su satelliti, tipo Europa, e cose varie, perché, alla fin fine, è vero che lo disse al tempo, i film ambientati sott'acqua, sono un po' come i film ambientati nello spazio, non c'è via di fuga, e sono molto claustrofobici, e quindi, prendendo una trilogia, che poi trilogia non è, ma comunque trilogia del capolavoro, di questi tre bimmovie, degli anni 80-90, mi vengono in mente, Abyss, Creatura degli Abissi, che poi, vabbè, in italiano se no si chiamava Deep Star Six, e poi, il film Leviathan, che sono quei tre film, che hanno dato ispirazione, ovviamente, tra le tante cose, poi anche Dead Space e altri, per creare Deep Madness, che è un gioco di cooperativa, ve l'ho detto, fatto bene mi piace, anche come a livello di regole, però non voglio parlare di quello, perché, se avessi dovuto premiarlo per le regole, non sarebbe mai arrivato prima, non perché siano brutte, perché preferisco quelle di altri giochi, ecco, mi sarebbe piaciuto mettere le regole di, Battle Stations, dentro Deep Madness, però, il contenuto di miniature, il Kickstarter, onesto che è stato fatto, c'è gente che ha speso, due gente passa a euro, due gente 80, una cosa del genere, ragazzi, una, due, tre, quattro, cinque, sei scatole, gioco base, più cinque espansioni, occhio, scatola dove mettere dentro tutte le miniature, scatola profondo in box, dove mettere dentro tutta quanta la roba, che token e quant'altro, occhio, che non ce l'ho ma le voglio, cinque scatoline, cinque o sei scatoline, con dentro dei mini boss da usare nel gioco, tipo dei blister, che non ho, sono l'unica cosa che mi manca, e le prenderò di sicuro, e poi artbook, romanzi, miniature aggiuntive, e quant'altro, cioè questo è stato il kickstarter, secondo me più grosso, al momento della storia di kickstarter, e poi c'è gloom heaven, ce ne sono state anche nemesis, con tutte le espansioni mostruose, però Deep Madness, è arrivata a casa una mole di contenuti ragazzi, che a parte hanno arrivato il pacco, veramente, cioè, facevo un piano, mi fermavo a respirare, con la bombola dell'ossigeno, ce la facevo arrivare a casa, e poi a mettere tutte in campo, io vi voglio dire, ci saranno 240, 250 miniature, c'è un bastard tavolo, per mettercele tutte, c'è un mondo bellissimo, le regole sono fatte bene, il gioco è divertente, è veramente cupo, gira bene, è divertente in gruppo, è un po' troppo lungo forse, e c'è tanta componente cool, ovviamente legata ai dadi, anche qui il dado la fa da sovrano, però, l'ambientazione ragazzi, è veramente la cosa, migliore e più riuscite questo gioco, e se cercate un gioco, ambientato tipo Soma, Dead Space, o anche il vecchio Deep Star 6, sono Leviathan, qui è Vigar Bactulu, e Lovecraft, qui avete trovato il gioco, che fa per voi, è veramente cupo, quando sono lì, mi viene la crostofobia, perché poi ho anche paura dell'acqua, io ho la fobia dell'acqua, e delle profondità oceaniche, mi dà fastidio, l'idea di essere sott'acqua, al buio, di non poter scappare, né respirare, né niente, ho dell'incubo, anche abbastanza ricorrenti, e quindi, mi prende veramente, mi punzecchia, nel cuore e nell'animo, suscita le mie più grandi paure, ed è una cosa che adoro, perché quando, ancora oggi, a 37 anni, ci si riesce a emozionare, vedendo un film, leggendo un romanzo, come dico sempre, quando un film riesce a farmi fare un salto, o a mettermi paura, per me quel regista merita, all'Olimpo, gli devono dare tutto, tutti i premi del mondo, e Deep Madness riesce veramente, tanto a farmi emozionare, l'ammettazione è bellissima, quindi, assolutamente, al primo posto. E ragazzi, in conclusione, questa era la mia top 5, poi vediamo anche nel caso, se il video potesse piacere, ne farò ovviamente degli altri, e tutto quanto, però questa era la mia top 5, in generale, di tutti i giochi che ho in casa, quindi questa è la mia top 5, assoluta, non prendendo giochi vecchi, di stampo vecchio, come Hotel, Brivido, e cose del genere, perché, di quei giochi lì, ci vorrò fare un video a parte, quindi prendere magari, la mia top 5, dei giochi anni 80-90, e tirare fuori, insomma, tanto lo sapete. Iroquesta è il primo posto, però, dal secondo al quinto, boh, e ci farò un video a parte, e poi ovviamente mi piacerebbe fare anche un video, la mia top 5, o top 10, dei giochi del 2019, e quelli che verranno. Colgo l'occasione, per ringraziare veramente, tutti gli editori, con cui collaboro, da un anno, un anno e mezzo, perché, se io ho una casa, piena di giochi da tavolo, e mi avete dato la possibilità, di fare, mi piacerebbe chiamarlo lavoro, perché il lavoro non è, comunque mi avete dato la possibilità, di esprimermi, e di fare quello che, da sempre avrei sognato di fare, perché io non ve lo nascondo, e ve lo giuro, sul mio nome, quando ho iniziato YouTube, mi sarebbe piaciuto portare questi contenuti, la mia prima idea di YouTube, infatti chiamandomi Corridan Jade, Corridan Jade è il mio personaggio, di, l'ho detto tante volte, Guerre Stellari, quando giocava a 16 anni, quindi mi sarebbe piaciuto aprire un canale, dove parlavo di Guerre Stellari, di GDR in generale, e di board game, poi dopo l'ho portato più avanti, nei giochi per computer, abbandonando il board game, perché non c'ho posto ragazzi, cioè io, vi faremo anche un video al tour, qui sopra, così vedete dove registriamo, è anche una cosa che volevo fare, bellina, però non avevo posto, quindi anche al tempo, quando ricevetti il primo gioco dalla stadion, che ve lo mostrai giù al computer, cioè non ci potevo fare un gameplay, mi toccò farvi vedere le cose così brutte, fatte male, senza spiegare le regole, ragazzi, non ci avevo posto, cioè ci avevo un letto, dove dormivo e stavo seduto per stare al computer, cosa mi metteva a farvi vedere il gameplay sul letto, quindi non avevo posto, e l'ha disse, va bene, la mia seconda passione sono i videogiochi, sono contento, non è che l'ho fatta a posto, non andavo a fare tracking, però ho detto farò videogiochi, ma tornassi indietro, avrei trattato, se avessi avuto ovviamente questa stanza, dal primo giorno, quindi ringrazio tutti gli editori, perché grazie soltanto a voi, se sono riuscito a fare queste cose, grazie a voi, se il canale continua ad andare avanti, perché se smettessero le collaborazioni, non ci sarebbe nemmeno più motivo di portarla avanti, di continuare, quindi grazie ovviamente di cuore, e poi ovviamente sono aperta a tutti i tipi di collaborazioni, e sto buttando nel canale, dentro di tutto, ma ovviamente non di tutto, di tutte le cose che piacciono a me e a mia moglie, ho iniziato a buttarci dentro anche libri game, sto iniziando a buttarci dentro romanzi, sto iniziando a buttarci dentro giochi di ruolo, cioè qualsiasi cosa che giri intorno a questo mondo qui, quindi grazie di cuore a tutti gli editori, veramente io tante volte mi sento dire, nelle mail quando vi mando, è uscito il video, grazie Cordon per il lavoro che fai, io grazie da voi, un vuoto voglio più senti di, io ve lo dico io, grazie a voi, perché se non fosse per voi, che vi fidate di me, mi trattate a volte come un amico, la maggior parte di voi avete fiducia, che è una cosa che mi riempie di orgoglio, e mi mandate giochi, io non potrei fare nulla, quindi grazie, io ve lo voglio più senti di, e sono aperto sempre a collaborazioni, quindi qualsiasi tipo di collaborazione, anche di altri editori italiani, io sono sempre qui disponibile, ci mancherebbe altro, qualsiasi cosa vogliate recensire, fare o comunque presentare, ragazzi questa era la mia top 5, spero vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e tutti i giochi che vi ho fatto vedere, andate indietro nel canale, perché li troverete tutti, poi magari ve le linko io direttamente, anzi lo linko, andate in descrizione al video, e trovate tutti i link dal primo al quinto, così vi potete rivedere direttamente, le recensioni che ho fatto di questi giochi, ciao ragazzi alla prossima, Grazie a tutti,